Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ebbene si, ricchi ve gente, perché? Perché? Per chi non lo sapesse, sto portando la carriera allenatore in live quasi ogni giorno sul mio canale E ho preso alla seconda stagione, la prima l'abbiamo fatta col Crotone e la seconda col Milan Ho preso Andre Silva Prima che si sapesse la voce di mercato, prima che diventasse ufficiale con le visite mediche che approdasse al Milan E' un giocatore molto molto particolare ragazzi, che secondo me può aiutare tantissimo il Milan Sottovalutato a mio avviso, anche se l'abbiamo pagato molto, ma molti non lo conoscono Ma vi posso assicurare che è veramente una bestia, veramente un bomber E sono veramente contentissimo di averlo in squadra con noi Poi ragazzi volevo ricordarvi appunto, per chi non lo sapesse, che sto portando questa carriera allenatore in live come ho già detto E ragazzi attivate le notifiche, mi raccomando la campanellina E così non vi perdete nessuna mia live futura Sicuramente potete anche seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione Dove spesso aggiorno un po' la situazione E poi perché no, arrivare anche a mille follower sarebbe molto molto bello lì su Instagram Quindi ragazzi questo era un video sia divertente dal punto di vista di veggenza Cioè che ho azzeccato alla fine Andrea e Silva Che mi avete consigliato anche voi alla fine Quindi anche merito vostro E sia per informare che comunque sto facendo queste live Le faccio di solito o dalle 2 in poi alle 3, 3 e mezza circa Oppure la sera alle 7, dipende Per questo vi dico di attivare la campanella Quindi ragazzi un saluto a tutti e noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Konnichiwa